questo video come succede se ora provo a spegnere il video lo spengo ora lo riaccendo vediamo se fa lo stesso scherzo o se cambia il tipo di scherzo ora sto tranquillo poi tra un po' riprenderà a fare qualche pizza magari diventa più stretto non voglio annoiarvi col video basta che mi crediate